come ok ok grande grande scena non capisco perché questo bambino no porca puttana ce l'ho fatto che che recuperiamo un po' di tempra allontanandoci da prendiamo le mie anime che stanno al zero non 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 Oltre dove ti è venuto? Hai scoperto da me? Oh! Come out! Non ti preoccupi! Tu è stato un figlio di dracone. Cosa potete farlo? Ora! Ora! Showi a te, Ocelot! 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 Ah! We are! Ma che ce lì ho preso? Ma che cazzo mi son preso? Vaffanculo. Volta? Vaffanculo. Non c'è la scuola, non c'è nulla Un momento para la holly Porca puttana Fuolta là Di accidente a colpirlo ragazzi Qu'est ce que c'est ? Qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce qu'il y a ? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Carica, carica, porca puttana carica. No, 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 qua dentro. Non puoi farmi questo? No. 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 non si è consumato